Duro colpo alla criminalità organizzata scoperto dai carabinieri un pericoloso arsenale di armi e droga. I carabinieri del comando provinciale di Napoli, dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti a fuori grutta, hanno intensificato i controlli nell'area, setacciando le strade ed eseguendo diverse perquisizioni a pregiudicati. Durante le operazioni, in nottata, i militari del nucleo investigativo della compagnia di Napoli Bagnoli hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale di armi all'interno di un negozio di ortofrutta in via Misena. Dieci pistole, sei kalashnikov, cinque pistole mitragliatrici, due giubbette antiproiettili e una bomba carta a diverso munizionamento. I carabinieri hanno trovato nel negozio anche 13 chili di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. Arrestati il titolare 41enne dell'attività e un suo parente 74enne, anche lui all'interno dell'esercizio commerciale. I due arrestati sono entrambi del posto e incensurati. Sono tuttora in corso i rilevi tecnici e le armi saranno sottoposte anche a rilevi balistici per appurare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue e negli eventi delittuosi avvenuti di recente nei quartieri dell'area occidentale della città.